L'esempio più semplice. Punto F attraverso Francesca R a cura di Vubi, guida. Si può caricare qualsiasi oggetto positivamente o negativamente. L'esempio più semplice l'abbiamo con l'acqua. Provate a dire all'acqua delle cose cattive e l'acqua si manifesterà proprio a livello molecolare senza forma. Dite le stesse parole in maniera positiva e vedrete sempre a livello molecolare che appariranno delle forme meravigliose. Vale per qualunque cosa. Se tu ripeti a una persona che è cattiva, è cattiva, è cattiva, carichi quella persona di vibrazione di basso livello. Se la sua capacità evolutiva è quella di voler fare esperienza dell'essere cattiva, accoglierà le vibrazioni che la renderanno cattiva. Se non è cattiva, le caccerà via. Dovrà affrontare però una battaglia energetica e si avvarrà sempre di tutti i suoi corpi. Perché voi non siete solo un corpo fisico, ma siete tutti i corpi che vi appartengono. Grazie. 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 Grazie.